Vuole scommettere contro il mercato immobiliare. Perché? Il rischio di fallimento esisterebbe solo se milioni di americani non pagassero il mutuo. Non è mai accaduto nella storia. Mi scusi, dottor Barry, ma sembra un investimento insensato. Se ci basiamo sull'opinione generale sul mercato, sulle banche e sulla cultura di massa, sì, è un investimento insensato, ma in realtà si sbagliano tutti. Cosa? Questo è buono. Questa è Wall Street, dottor Barry. Se ci offre denaro gratis, noi lo prendiamo. La mia unica preoccupazione è che quando le obbligazioni falliranno, io voglio essere sicuro del pagamento, in caso di problemi di solvibilità della vostra banca. Mi scusi, sta dicendo sul serio. Scommetti contro il mercato immobiliare e si preoccupa che noi non la paghiamo? Sì, sì, esatto. Siamo pronti a venderle 5 milioni in CDS su queste obbligazioni ipotecarie. Si può arrivare a 100 milioni?